Buongiorno a tutti, allora cominciamo questo incontro, questo terzo incontro del ciclo e il nostro relatore odierno è Federico Cremisi della scuola normale. Lo avete già conosciuto in questi precedenti incontri, quindi non c'è bisogno che lo presenti, ma qualche cosa mi fa piacere dirla comunque. Federico è un biologo dello sviluppo, un neurobiologo dello sviluppo e questa definizione lo caratterizza molto bene. Lui si è laureato con la professoressa Giuseppina Barsacchi, con la quale ha fatto anche il dottorato di ricerca, per poi approdare come postdoc a lavorare nel laboratorio di Lamberto Maffei, facendo quindi una transizione dalla biologia dello sviluppo alla neurofisiologia del sistema visivo, alla neurobiologia del sistema visivo. Successivamente, dopo aver lavorato nel gruppo di Maffei, è stato all'estero, è stato in Inghilterra, poi è stato in Germania e poi è tornato qui a Pisa, dove ha cominciato le proprie linee di ricerca. In particolare, Federico si è occupato essenzialmente negli anni di ciclo cellulare, destino cellulare, nello sviluppo della retina e oggi nello sviluppo della corteccia. Non sono molti quelli che possono dire di avere degli esperimenti fatti che sono diventati risultati dal libro di testo. Un famoso esperimento di Federico su un orologio cellulare nello sviluppo della retina è una figura nel più importante libro di developmental biology su cui studiano in tutto il mondo. Quindi questo è un textbook experiment, come si dice, e chi ce l'ha è un segno di... ovviamente capite bene. Oggi Federico sta lavorando a un progetto molto ambizioso che utilizza i suoi studi sulle cellule staminali neurali derivate dall'embrione e lui sta cercando di imparare e di studiare come i diversi tipi della corteccia del cervello, delle aree corticali, vengono formati. Lui sta imparando a costruire una corteccia in provetta, quindi è brain in the dish, come si dice per... E quindi come capite è un progetto molto ambizioso di biologia di base, ma anche con delle implicazioni molto importanti. Infatti in una parte del suo lavoro lui utilizza queste cellule per trapiantarle in modelli di ischemia cerebrale per vedere come cellule neurali staminali possono, di differenti tipi, quali tipi che lui sa costruire in vitro, riescono a recuperare le funzioni. Dopo questa piccolissima premessa io lascio la parola a Federico e alla sua lezione sugli RNA non codificanti. L'agenda come al solito è ci sarà la lezione, poi ci sarà l'interruzione, il coffee break. Durante il coffee break voi vi riunirete per discutere anche le domande in gruppi e poi avremo la discussione. Mi sentite? Grazie mille di questa presentazione che ovviamente è molto esagerata direi, però l'ho apprezzata comunque. Io faccio il mio mestiere sostanzialmente. Oggi vi parlerò degli RNA non codificanti e vi dirò qual è la funzione di questi RNA nel controllo epigenetico dell'espressione genica e anche qual è, secondo me, la loro funzione nello stabilire diverse identità cellulare, nel creare la diversità cellulare durante lo sviluppo embrionale o in genere. Non è facile in una lezione parlare di questo argomento degli RNA codificanti, soprattutto perché, ad esempio, i lunghi RNA non codificanti sono un soggetto in attiva evoluzione proprio oggi, cioè non si sa bene come funzionino. Comunque, per tutto quello che non riuscirò a dirvi c'è il libro di testo, quello che noi biologi molecolari della cellula chiamiamo la Bibbia e che voi conoscete, alcuni di voi utilizzano già, molte delle cose che non riuscirò a dirvi sono spiegate meglio di quanto potrei fare in quello che noi chiamiamo l'Albers. Iniziamo dall'origine. Il genoma, e quindi la collezione ereditabile di tutti i geni contenuti nei cromosomi delle nostre cellule, è costante, è lo stesso più o meno in tutte le cellule. C'è qualche eccezione, come le cellule del sistema immunitario. Questo assunto è la base dell'esistenza dei meccanismi epigenetici, direi. Questo è ciò che ci ha lasciato, con i suoi studi, Sir John Gordon, che ha conseguito il premio Nobel per la medicina nel 2012. Quindi, in sostanza, è una quarantina di anni prima che fosse clonata la pecora Dolly, John Gordon ha clonato un altro vertebrato, certo meno complesso, una rana, e semplicemente nucleando, con metodi fisici, con raggi ultravioletti, l'ocita, e iniettando in questo ocita nuclei da cellule, prima embrionali, che poi è addirittura da tessuti indifferenziati. E poi è riuscito a ottenere degli embrioni fatti dal genoma delle cellule donatrici. E questo era possibile riconoscerlo, perché queste cellule avevano tre nucleoli, i nuclei di queste cellule avevano tre nucleoli invece che due. Alla fine di questi studi è riuscito a ottenere delle rane adulte e fertili. Quindi questo ci dice che la differenziazione delle cellule è un qualcosa di squisitamente epigenetico, cioè i geni sono gli stessi e quello che cambia è la loro espressione, il fatto che siano attivi o inattivi. Noi sappiamo che l'espressione, cioè l'essere attivo o inattivo, dipende dalla trascrizione del gene in RNA messaggero, dalla traduzione di questo RNA messaggero in una catena polipeptidica, dalla capacità di questa catena di assumere la conformazione tipica della proteina, dalle modificazioni post-traduzionali che rendono la proteina attiva, negli ultimi venti anni del secolo scorso, le stelle di questa storia sono stati i fattori di trascrizione di cui abbiamo parlato due lezioni fa, cioè il fatto che un gene sia attivo o no e che produca la proteina è senz'altro dovuto al fatto che ci sono dei fattori di trascrizione che poi riescono a legarsi a delle regioni regolatorie, delle volte all'interno dello stesso gene o di geni diversi, e questo decide se un gene è espresso o no in una cellula. Quindi questo direi che è il primo meccanismo epigenetico che conosciamo, e quindi il differenziamento delle cellule si spiega col fatto che le cellule ad esempio muscolari producono dei fattori di trascrizione, questi verdi o questi gialli, che sono diversi da quelli prodotti dalla pelle, marroni e verdi, cioè in realtà diciamo il fattore di trascrizione verde è a comune, ma la combinazione è specifica. Quindi noi possiamo pensare allo sviluppo embrionale, al differenziamento cellulare in generale come un processo per cui durante la divisione delle cellule cominciano a essere prodotti fattori di trascrizione diversi e ogni combinazione di fattori di trascrizione identifica un tipo di cellula differenziata. Quindi è un meccanismo epigenetico, combinatorio e cooperativo. Ora, quando parliamo di cellule differenziate noi pensiamo a cellule che hanno una diversa struttura e una diversa funzione, ad esempio gli epatociti hanno un'ultrastruttura tipica di cellule capaci di secernere e i neuroni invece sono caratterizzati da questi lunghissimi processi che permettono il contatto fra diverse cellule. Gli epatociti dal punto di vista funzionale cosa fanno? E producono tutto quel repertorio di enzimi tipici della digestione. I neuroni invece di mestiere producono neurotrasmettitori e recettori per neurotrasmettitori. Benissimo, allora se quello che abbiamo detto finora è vero, cioè se i fattori di trascrizione da soli regolano l'espressione di geni diversi che rendono conto di struttura e funzione, allora forse è possibile trasformare un'epatocita in un neurone forzando l'attivazione di fattori di trascrizione chiave. Cioè uno mette i fattori di trascrizione neuronali in queste cellule e questi diventano neuroni. E questo è uno dei classici esperimenti che noi biologi molecolari abbiamo fatto dagli anni Ottanta fino allo scorso secolo, diciamo. Quello che succede è che se uno sceglie dei fattori di trascrizione chiave, come questi tre fattori di trascrizione che sono tipici di un neurone e con metodi chimici o fisici li mettiamo dentro agli epatociti, quindi li trasfettiamo, otteniamo dei neuroni. Questo è quello che noi insegniamo e che c'è scritto sui libri di testo. Però in realtà l'esperimento non è così semplice e riduttivo. Tanto per cominciare noi non mettiamo dentro tutto il gene che è lungo centinaia di chilobasi, contiene gli introni, voi sapete, contiene delle sequenze regolatorie anche molto lontane dal gene dove si legano alcuni dei fattori di trascrizione. Noi mettiamo solo la parte codificante, che codifica per la proteina, per il fattore di trascrizione. Ed è un promotore spesso virale che agisce in tutte le cellule. Quindi dopo la trasfizione di tutte le cellule fanno questi fattori di trascrizione. Però non tutte diventano neuroni. Solo una piccola parte di questi epatociti diventa neuroni. E ora sappiamo qual è il motivo. Nonostante tutte le cellule producano i fattori di trascrizione, solo in alcune i fattori di trascrizione riescono a legarsi ai promotori dei geni neuronali. Perché? Perché come abbiamo imparato nella scorsa lezione, nelle cellule epatiche, la cromatina dei geni neuronali è probabilmente molto compattata. Il DNA è metilato, certi residui degli stoni sono metilati e sono poco acetilati. E quindi l'arena polimerasi non riesce a entrare e a sedersi, attaccarsi ai promotori dei geni neuronali. La cromatina, invece tipica a conformazione aperta, che può essere trascritta, è caratterizzata da cosa? Da residui estonici acetilati, da DNA non metilato. Ora, grazie al cielo, oramai in commercio esistono molte sostanze che riescono a attivare o bloccare questi enzimi che metilano, acetilano. Quindi è possibile trasformare la cromatina chiusa, l'eterocromatina, in cromatina aperta con metodi sperimentali, chimici. Quindi uno può rifare lo stesso esperimento di cui vi parlavo, aprendo la cromatina, per esempio somministrando inibitori delle istone metiltransferasi o somministrando degli inibitori delle istone deacetilasi, quindi forzando l'acetilazione. Apriamo la cromatina, trasfettiamo la parte codificante del fattore trascrizione e magia, quasi tutti gli epatociti diventano neuroni. Questo vuol dire che c'è un meccanismo epigenetico in più che non conoscevamo. Il fattore di trascrizione è il DNA che codifica per il fattore di trascrizione quando lo trasfettiamo è nudo, non ha cromatina. Quindi vuol dire che succede qualcosa alla cromatina dei geni che il fattore di trascrizione è attiva. E qui siamo più o meno alla lezione di due settimane fa. Ora facciamo un altro esperimento e poi parliamo degli RNA non codificanti. L'esperimento successivo è invece di mettere dentro la parte che codifica per la proteina, la parte che codifica per il fattore di trascrizione, includiamo anche quella parte dell'RNA che voi conoscete non è tradotta. Si chiama 3' untranslated region. Regione non tradotta al 3'. Se uno fa l'esperimento con questa regione quello che succede è che l'esperimento non funziona quasi mai. C'è qualcosa in questa regione dei geni dell'RNA messaggero che impedisce la traduzione. Cioè il DNA entra, ma la proteina il fattore di trascrizione non viene prodotto. Questo noi lo sapevamo da anni, però fino a una decina di anni fa non capivamo perché. Non capivamo, ora cominciamo a capire cosa è contenuto in questa regione. C'è un segnale in questa regione dell'RNA che non codifica, quindi questo già cominciamo a parlare di RNA non codificanti. Non codifica il codice genetico, ma evidentemente ha altri codici in sé. Noi ora sappiamo che nel 3'1 non tradotto dell'RNA messaggero ci sono vari segnali. Per esempio, ci sono dei segnali molto importanti per dirigere la traduzione di questo RNA in posti specifici della cellula. Per esempio, nei neuroni molti RNA messaggeri devono essere tradotti a livello delle sinapsi. Quindi ci sono dei sistemi che mandano questi RNA messaggeri dove sono le sinapsi dei neuroni. In altri casi gli RNA messaggeri devono essere tradotti in prossimità della membrana plasmatica. Quindi ci sono dei siti di ancoraggio e così via. Però un'altra cosa di cui parleremo in dettaglio è che questa regione dell'RNA messaggero contiene anche dei segnali che regolano la sua traduzione in proteina e regolano la sua eventuale degradazione. Ok, quindi cominciamo a parlare di RNA. Cosa può fare, come può segnalare un RNA se non attraverso il codice genetico, le triplette codificanti per gli aminoacidi? Beh, può segnalare in diversi altri modi. Tanto per cominciare l'RNA al contrario del DNA che ha sempre una struttura doppielica a prescindere dalla sua sequenza, l'RNA è molto sensibile alla sequenza alla sua sequenza primaria perché laddove ci sono dei tratti di complementarietà perfetta GC AT o anche imperfetta GU l'RNA subito crea delle strutture a gambo degli stem a doppia elica altrove restano delle strutture a cappio a loop a singolo filamento. Questa è una struttura secondaria. Certe volte in un piccolo RNA come il piccolo RNA associato al virus dell'epatite B certe volte a un piccolo RNA di questo tipo la struttura è sufficiente per catalizzare la sua stessa idrolisi. Si chiamano ribozimi. Però senza andare in dettagli esoterici noi conosciamo bene come è fatto un RNA transfer e sappiamo benissimo che è grazie a questa struttura che l'RNA transfer può essere legato da un ribosoma ma soprattutto è grazie a questa struttura che ogni RNA transfer corrispondente a un certo aminoacido perché c'è un certo anticodone legherà l'enzima aminoacilti RNA transferasi cioè l'enzima che catalizza il legame di quello e non altri aminoacidi a questo transfer. la specificità e il codice sta nella sequenza contenuta in questi cappi. Questo è un secondo codice non è il codice genetico che conosciamo ma è un altro codice. Quindi noi stiamo parlando di RNA non codificanti in realtà io vi parlerò d'ora in avanti di RNA che codificano per un codice che non è il codice genetico. Andiamo avanti e guardiamo se riusciamo a capire altri codici oltre a quello del transfer che già conoscevamo abbiamo parlato dell'RNA messaggero dentro l'RNA messaggero ci sono queste regioni non tradotte al 3 primo ne abbiamo parlato la regione al 5 primo è anche importante perché decide o no se un RNA messaggero si lega ai ribosomi se viene tradotto o no e queste cose stanno scritte nel libro di testo. Andiamo però a parlare di altri di altri RNA non codificanti del transfer abbiamo già parlato l'RNA ribosomale lo conosciamo poi ci sono questi altri RNA piccoli sono piccoli non codificanti stanno nel nucleo o nel nucleolo ma anche questi più o meno li riconosciamo e da tanto tempo nel libro vengono introdotti e spiegati sono i piccoli RNA che aiutano a fare lo splicing lo splicing dell'RNA messaggero oppure che aiutano a ritagliare a fare il processing dell'RNA ribosomale e comunque questi piccoli grandi RNA non codificanti hanno tutti una funzione di mantenimento della cellula cioè stanno sempre in tutte le cellule non hanno a che fare col differenziamento cellulare con fenomeni epigenetici invece questi questi queste tre classi di piccoli RNA quindi più piccoli di 200 basi e questa classe che vedremo da ultimo di lunghi RNA questi hanno delle funzioni sia nel differenziamento cellulare sia in fenomeni diciamo opposti se vogliamo per esempio il cancro allora i piccoli RNA non codificanti sono RNA di circa 20-30 nucleotidi appartengono a tre famiglie i micro RNA i piccoli RNA di interferenza e gli RNA legati alle proteine piui sono tutti accomunati dal fatto che appunto derivano da precursori più lunghi RNA doppio filamento in modo diverso poi questi lunghi precursori generano un piccolo RNA di 20-30 nucleotidi e comunque in tutte e tre le famiglie questo piccolo RNA si lega al suo bersaglio che è un RNA messaggero poi vedremo più in dettaglio possono succedere tre cose questo legame può distruggere l'RNA messaggero bersagliato indurre il taglio oppure può semplicemente bloccare la traduzione dell'RNA bersagliato oppure e questo è un meccanismo ancora più complesso e affascinante questo piccolo RNA può legare l'RNA messaggero in modo indiretto vedremo come modificare il DNA da cui l'RNA messaggero è stato trascritto cioè modificare a livello della cromatina questo Sirna Mirna e Pirna ecco questa è la diapositiva veramente più più tediosa e più difficile da digerire però ve la devo far vedere che è il meccanismo con cui questi tre tipi di microRNA vengono prodotti con l'eccezione di alcuni Sirna di piante che sono ritagliati da in certi casi da RNA virale che è già dentro la cellula in tutti gli altri casi ci sono dei loci cromosomici o dei geni che trascrivono questi lunghi più lunghi precursori dei Sirna dei Mirna e dei Pirna nel caso dei Sirna delle piante anche dei pochi Sirna animali i due filamenti complementari che devono fare il doppio vengono trascritti dallo stesso locus o da locus diversi oppure c'è un solo locus che fa una lunga forcina e comunque prima o poi si formano questi doppi filamenti di RNA che escono dal nucleo analogamente i microRNA formano un doppio filamento però come trascrivendo cioè questo doppio filamento deriva o da un entrone di un gene oppure in pochi casi è esso stesso un gene che fa un precursore del microRNA a lungo prima di uscire dal nucleo questo precursore viene un po' scorciato da questo complesso proteico poi c'è una esportina che esporta il precursore più breve nel citoplasma e poi sia i sirna sia i mirna vengono tagliati da questo enzima chiave che è Dicer il tagliatore Dicer produce il sirna il mirna di 23 nucleotidi e poi vedremo come questo sirna o mirna blocca l'RNA messaggero il caso dei microRNA legati alle proteine più è piuttosto complicato fate conto che in qualche modo con un meccanismo che poi si chiama ping pong autoregenerativo i precursori dei pin che sono trascritti anche loro nel nucleo rientrano attaccati a una delle varie proteine pivi dentro al nucleo e qui poi vedremo come agiscono e silenziano il gene bersaglio a che servono questi microRNA beh nel caso dei sirna e dei mirna il meccanismo è di una semplicità sorprendente loro sono fatti per inibire la traduzione la inibiscono in due modi i sirna nelle piante vedete questo è un 23 amero sono 23 nucleotidi attraverso un complesso proteico perché da solo non potrebbe farlo questo micro questo sirna questo small interfering RNA legato a questo complesso proteico che si chiama RISC fa lo scanning di tutti i messaggeri se trova una complementarietà completa si ferma e fa tagliare l'RNA messaggero bersaglio nelle cellule animali il meccanismo è diverso ma il risultato è simile lo stesso complesso RISC porta il micro RNA in prossimità di una regione di completa omologia le prime sette basi sono le più importanti si chiama il seme se ci sono queste sette basi identiche e poi più avvalle un po' di omologia allora a quel punto il complesso proteico RISC si blocca e impedisce la traduzione dell'RNA messaggero ok quindi nelle piante i sirna tagliano l'RNA messaggero che non può più essere tradotto nelle cellule animali c'è un blocco iniziale della traduzione ma poi vedremo spesso c'è anche una degradazione questa è la struttura della proteina chiave del complesso RISC si chiama argonauta in realtà nel nostro genoma noi abbiamo quattro forme di argonauta uno due tre quattro nei vari complessi RISC ci può essere una delle forme solo una delle quattro forme in realtà nelle nostre cellule al contrario che nelle cittadule vegetali solo una delle quattro forme in uno dei quattro domini ha un sito catalitico che è quello che permette il taglio dell'RNA messaggero bersagliato dal micro-RNA dal sirna quindi quello che succede nelle nostre cellule è che quando un micro-RNA si lega al suo bersaglio all'RNA messaggero quasi mai viene tagliato in realtà il complesso RISC RNA messaggero e micro-RNA si va a localizzarsi in compartimenti molto speciali della cellula questi sono sono delle singole cioè dei fibroblasti di un esperimento e qui la cellula è stata colorata con un anticorpo che è verde e che si attacca alla proteina argonauta quindi a questo complesso RISC e vedete c'è una perfetta sovrapposizione in questi compartimenti citoplasmatici fra il complesso RISC e quindi gli RNA messaggeri i micro-RNA e varie proteine fra cui anche questo enzima che di mestiere distrugge l'RNA perché toglie il cap al 5' dell'RNA ok quindi questi sono luoghi cellulari in cui dopo aver bloccato la traduzione dei messaggeri i messaggeri legati al RISC sono distrutti quindi noi non lo sapevamo ma in realtà quando un RNA messaggero delle nostre cellule viene prodotto ci sono più di una via percorribili la traduzione dell'RNA messaggero il suo blocco traduzionale che avviene in questi compartimenti citoplasmatici e poi anche la sua degradazione più lenta c'è una terza via che è possibile ci sono altre strutture sempre dentro l'acidoplasma che si chiamano stress granules in cui gli RNA possono stare lì senza essere tradotti e poi però possono uscire e ricominciare a essere tradotti allora prima di continuare guardiamo invece cosa sono i micro i piccoli RNA che si legano alle proteine piui anche questi piccoli RNA di mestiere silenziano silenziano l'espressione genica bloccano l'espressione genica però si sono evoluti e sono attivi e funzionano nelle cellule germinali degli organismi del mucilio della frutta del topo del nuovo sono attivi nelle cellule germinali perché evolutivamente hanno imparato a contrastare gli elementi trasponibili voi sapete che esistono degli elementi di DNA capaci di trasporre nel genoma cioè sono capaci di essere trascritti poi l'RNA viene copiato in DNA il DNA attraverso delle sequenze che contiene è capace di reinserirsi in posti diversi del genoma e quindi sono dei veri parassiti genomici i pivi sono piccoli RNA che una volta attaccati alla proteina pivi e insieme anche a questa proteina rx fanno lo scanning scansionano tutti gli RNA durante la trascrizione quando trovano RNA di elementi trasponibili si fermano e richiamano in prima battuta delle metilasi istoniche nella drosofila si chiamano con questi nomi piuttosto buffi la metilazione degli istoni innesca tutto quel processo di cui abbiamo parlato la volta scorsa che rende il DNA dell'elemento trasponibile etero cromatico e quindi lo silenzia lo blocca a livello della cromatina andiamo avanti allora questi sono i piccoli RNA che silenziano l'espressione genica quali sono gli RNA lunghi non codificanti nelle nostre cellule e che funzioni hanno allora in realtà vi dicevo questo è uno studio molto in divenire perché molti di questi lunghi RNA codificanti vengono prodotti dalle nostre cellule hanno anche delle funzioni però non si sa bene quali siano i meccanismi con cui funzionano ci sono due modi con cui un lungo RNA che non codifica può acquisire una funzione durante l'evoluzione del genoma uno è molto semplice se questo lungo RNA non codificante contiene una regione di omologia con un RNA messaggero soprattutto con l'inizio della traduzione dell'RNA messaggero questo lungo RNA non codificante può ancora una volta come i piccoli RNA non codificanti funzionare da inibitore della traduzione però in realtà la maggior parte dei pochi RNA lunghi non codificanti conosciuti ha una funzione semplice di impalcatura quindi abbiamo detto che gli RNA riescono a conformarsi ad avere una struttura secondaria a esporre delle sequenze nucleotidiche nelle regioni a singolo filamento e questo serve a far legare proteine il ribosoma è nient'altro che un enorme ribonucleoproteina in cui l'RNA ribosomale fa da impalcatura ok ci sono vari tipi di RNA non codificanti lunghi che sono parte di ribonucleoproteine in una classe di questi l'RNA fa semplicemente da impalcatura in un'altra classe l'RNA fa da impalcatura ma anche con una estremità molto breve riesce a portare le proteine o gli enzimi ad esso legati in prossimità di un certo RNA messaggero o di un certo gene cui si lega per legame per rinaturazione ok quindi ci sono esempi di questo tipo in cui una ribonucleoproteina può agire in cis cioè proprio nella regione in cui l'RNA qui si lega è espressa oppure su altri cromosomi vediamo subito un esempio di questo tipo voi sapete cos'è la telomerasi la telomerasi è quell'enzima che catalizza l'aggiunta di sequenze telomeriche quando queste durante l'invecchiamento di una cellula tendono a essere degradate perse la telomerasi è un enzima contiene un'attività enzimatica che si chiama trascrittasi inversa perché non esiste un enzima che riesca a polimerizzare il DNA senza uno stampo allora quello che è successo durante l'evoluzione è che la telomerasi si porta dietro lo stampo cioè la sequenza dei telomeri che devono essere polimerizzati dall'enzima è contenuta proprio nell'RNA che è un lungo RNA non codificante che da una parte porta il breve stampo che deve essere copiato e dall'altra anche una struttura secondaria che permette a questo enzima di assemblarsi poi c'è un altro esempio di lungo RNA non codificante che ha un'attività enzimatica importante e la fa funzionare in CIS cioè nella regione a cui si lega voi sapete che nelle nostre cellule uno dei due cromosomi X durante l'inizio dello sviluppo viene inattivato cioè non tutti ma il 90% dei geni di uno dei due cromosomi X viene silenziato rendendo il DNA rendendo la cromatina chiusa cioè eterocromatinizzando tutto il cromosoma e questo è dovuto a un lungo RNA non codificante che è espresso in questa regione che si chiama XIC cioè il centro di inattivazione del cromosoma in questa regione c'è il locus da dove viene trascritto questo lungo gene di inattivazione di X XIST che è quindi questo RNA di 17 chilobasi questo RNA in realtà così lungo via via nella sua lunghezza contiene delle corte regioni di omologia a moltissime regioni di tutto il cromosoma quello che succede e non si sa ancora perché in uno dei due cromosomi inizia la trascrizione di questo RNA e questo RNA comincia a legarsi a vari loci di tutto il cromosoma andando verso i due telomere e lo ricopre però al tempo stesso essendo così lungo e assumendo una certa conformazione è capace di richiamare su tutto il cromosoma che ha ricoperto una serie di enzimi che sono rimodellatori della cromatina e che usando i processi che abbiamo imparato la volta scorsa prima appunto metilano certi residui stonici li diacetilano e poi portano alla metilazione del DNA ok quindi questo è lo stato dell'arte ora adesso io vorrei però focalizzare il resto di questa lezione sul sul ruolo di questi micro RNA e c'è un motivo perché negli ultimi 15 anni i micro RNA sono quelli che hanno più rivoluzionato più scombussolato il nostro modo di vedere il controllo dell'espressione genica cioè se fino a una quindicina di anni fa noi eravamo abituati a dare nomi cioè a imparare nomi di certi fattori di trascrizione che avevano una funzione qui parliamo ad esempio dello sviluppo embrionale ora noi abbiamo imparato a riconoscere specifici micro RNA la cui funzione è cruciale ad esempio per il differenziamento dei primi tre foglietti tessuti embrionali o del primo tessuto extra embrionale il trofoblasto quindi invece di studiare fattori di trascrizione studiamo singoli micro RNA la cui funzione è è specifica e ci sono micro RNA legati a funzioni nello sviluppo embrionale del differenziamento oppure conosciamo i micro RNA che regolano l'espressione dei geni codificanti per gli enzimi per moltissimi enzimi di moltissime vie metaboliche per esempio qui ci sono i nomi dei micro RNA che regolano l'espressione degli enzimi deputati alla produzione di tutte le lipoproteine epatiche e come è facile immaginarsi stiamo imparando anche a conoscere abbiamo imparato a conoscere i nomi dei micro RNA che regolano l'espressione dei geni correlata a tutti i processi chiave dell'insorgenza tumorale quindi i geni che controllano la divisione cellulare i geni che controllano la morte cellulare programmata senza la quale il tumore si sviluppa più velocemente i celluli che controllano l'angiogenesi quindi l'irrorazione del tumore e così via ora io mi sono imbattuto nel micro RNA dieci anni fa studiando a quei tempi studiavo il differenziamento e lo sviluppo della retina neurale questo è un disegno originale di Ramonica Hall che è stato premio che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 1906 insieme a Golgi quando è andato a ritirare il premio Nobel nel suo discorso Ramonica Hall ha sostenuto l'esistenza di cellule diverse cioè di identità diverse i fotorecettori diversi dai neuroni bipolari dai neuroni che fanno il nervo ottico e così via e quindi ha postulato l'esistenza delle sinapsi Golgi invece nel suo discorso ha esposto la teoria la sua teoria sinciziale del cervello come un sincizio un continuum di fibre e quindi si sono litigati e dopo un secolo abbiamo imparato a conoscere i geni chiave geni cruciali che identificano diversi tipi di questi neuroni e con esperimenti di trasfezione come quelli di cui abbiamo parlato prima con esperimenti di trasfezione noi sappiamo per esempio che questo gene se uno fa esprimere la proteina codificata da questo gene che è un fattore di trascrizione omeobox questo è capace di trasformare un neurone un interneurone bipolare in un fotorecettore o in un cono o in un bastoncello ecco io mi trovavo a studiare questo tipo di di regolazione volevo cercare di capire chi è che dicesse durante lo sviluppo della retina a una cellula di attivare questo fattore di trascrizione anziché questo anziché questo e questo è il punto e quello che facevo era studiare per esempio la presenza degli RNA per esempio la presenza dell'RNA del gene dei fotorecettori o di questi geni dei neuroni bipolari in una retina queste sono microfotografie dove si vede una retina molto precoce di embrione queste sono invece retine già sviluppate e qui si vedono i fotorecettori nella retina dell'embrione quello che io vedevo è che tutte le cellule trascrivevano tutti tutti gli RNA messaggeri per i fattori dei diversi tipi di neuroni ma guardando le proteine con degli anticorpi fluorescenti verdi questi RNA non venivano tradotti in proteina cominciavano ad avere tradotti in queste prime cellule solo più tardi c'era la produzione di fattori di trascrizione nelle cellule in cui mi aspettavo ci fosse questa beh per farla breve quello che abbiamo visto è che le cellule precoci della retina che sono moltipotenti cioè sono capaci dividendosi di fare un cono un bastoncello oppure un tipo di neurone bipolare ecco le cellule moltipotenti sono moltipotenti perché già trascrivono diversi tipi di geni chiave ma al tempo stesso hanno dei microRNA che ne inibiscono la produzione la traduzione solo quando alcuni di questi microRNA smettono di essere prodotti allora si si produce il fattore di trascrizione chiave e la cellula diventa un fotorecettore anziché un neurone bipolare e questo è questo è un esperimento che abbiamo fatto che che conferma questa ipotesi uno può bloccare i microRNA chiave si possono trasfettare le cellule della retina e si possono trasfettare con dei frammenti di RNA che bloccano il microRNA quindi uno può questo è un esperimento di controllo dove si formano tutti i tipi di cellule cioè i fotorecettori esterni oppure i neuroni che fanno il nervo ottico interni oppure gli interneuroni bipolari quando uno blocca questo microRNA il 125 le cellule tendono a diventare fotorecettori se invece uno blocca questi microRNA con questi altri nomi con questi altri numeri addirittura se li blocca tutti e quattro le cellule diventano sempre tutti neuroni bipolari non ci sono mai né fotorecettori né neuroni che fanno il nervo ottico bene ora perché le nostre cellule dovrebbero utilizzare i microRNA cioè perché durante il differenziamento non è sufficiente il funzionamento di fattori di trascrizione che regolano positivamente o negativamente la trascrizione dei geni io penso che per rispondere a questa domanda sia intanto importante capire come i microRNA si legano ai diversi RNA di una cellula qual è la logica allora io vi ho detto che c'è un complesso proteico che qui non è mostrato che si porta dietro il microRNA e fa la scansione di tutto l'RNA di tutti gli RNA che trova nel citoplasma e appena trova all'inizio del microRNA sette basi identiche il seme il seme di omologia indugia poi molto spesso ci sono anche altre omologie imperfette avvalne ora ci sono dei programmi degli algoritmi siccome la sequenza del genoma e quindi tutti gli RNA è nota e sono note oramai anche le sequenze di microRNA è possibile in silico con un computer fare l'analisi di questa interazione ci sono dei programmi che poi usano più o meno lo stesso algoritmo quello che vi ho detto prima vanno a vedere se ci sono sette basi identiche poi vanno a misurare quante basi complementari ci sono dopo che energia libera ok questi diversi programmi cambiando un po' l'algoritmo ma più o meno facendo questa operazione si chiamano Pictar, Miranda Target Scan e così via hanno incrociato e continuano a incrociare i dati del mirnoma con i dati del trascrittoma e quindi in tutti gli organismi di cui si conoscono i geni e i microRNA riescono a capire se un certo microRNA si lega o no e in che posizione nel tre primo UTR di un RNA messaggero questo è un esempio questo è un esempio questo è un esempio microRNA ai loro bersagli sappiamo che un microRNA può legarsi al tre primo non tradotto di tanti messaggeri molto più di tre messaggeri di solito sono alcune centinaia 100 300 200 e chiaramente alcuni di questi bersagli sono a comune tra il microRNA A1 e il microRNA A2 poi sappiamo che se uno considera un tre primo non tradotto cioè un'estremità non tradotta di un messaggero ci trova un sacco di un sacco di semi un sacco di regioni predette di legame di diversi micro ok e ognuno e ognuno di questi tre primo non tradotto del messaggero ha una combinazione diversa di possibili legami e quindi siamo di fronte allo stesso alla stessa logica di regolazione combinatoria e cooperativa dei fattori di trascrizione solo che i fattori di trascrizione si legano in modo e regolano in modo combinatorio e cooperativo il DNA questi si legano e inibiscono in modo combinatorio e cooperativo gli RNA messaggeri benissimo complichiamo ancora un attimo la cosa e poi noi possiamo incrociare ah no ecco parliamo dei circuiti questa è una cosa molto importante la domanda è perché il microRNA c'è un motivo per cui i microRNA debbano coesistere con i fattori di trascrizione probabilmente c'è un motivo guardiamo i diversi circuiti con cui un fattore di trascrizione e un suo bersaglio e un microRNA e un suo bersaglio stanno in relazione ok questi sono tipici circuiti di modulazione allora questi circuiti possono essere di due tipi o coerenti o incoerenti cosa vuol dire in un circuito coerente un fattore di trascrizione che inibisce un gene anche attiva un microRNA che tende a inibire un gene oppure al contrario un fattore di trascrizione che attiva un gene allora deve per forza inibire il microRNA che di solito va su quel gene cioè questo tipo di circuito tende a mantenere a rinforzare lo status quo si chiama circuito coerente al contrario esistono i circuiti fattori di trascrizione gene bersaglio microRNA incoerenti cioè circuiti che tendono a destabilizzare l'attivazione da parte del fattore di trascrizione ok questo è questo avviene e esistono circuiti di questo tipo coerenti e incoerenti anche verificati sperimentalmente ora complichiamo una cosa noi oramai con i metodi informatici che abbiamo a disposizione possiamo dedurre in silico l'interazione di di microRNA questi in rosso fattori di trascrizione questi in verde e gene bersaglio questi in blu questi interattomi possono essere abbastanza facili penso che ne parlerà la collega la prossima lezione possono essere dedotti analizzando il trascrittoma il mirnoma di cellule che si stanno differenziando comunque credete che questo tipo di relazione che si ha interattato ma verosimilmente esiste in una cellula quindi noi ora possiamo cominciare a pensare uno stato cellulare un'identità cellulare come una rete di interazioni fra fattori di trascrizione in verde microRNA in rosso e gene bersaglio in blu e possiamo pensare il differenziamento cellulare o la riprogrammazione cellulare come una deformazione di questa rete una deformazione di questa rete nella quale in un certo punto della rete prevalgono i circuiti incoerenti rispetto ai circuiti coerenti quindi potete pensare ai microRNA che stanno dentro ai circuiti coerenti come degli ammortizzatori e il differenziamento come un'automobile che cerca di montare sopra una scala o scendere da una scala i microRNA si sono apparentemente evoluti insieme ai metazoi se voi guardate il numero dei microRNA sequenziati dentro alle cellule di organismi via via più complessi vedete che il numero di microRNA sembra quasi crescere con la complessità poi c'è un'impennata nel genoma umano ci sono tantissimi microRNA tantissimi microRNA che sono neurospecifici questo potrebbe avere però potrebbe avere a che fare con la complessità del sistema nervoso dei mammiferi comunque c'è un dato di fatto che i microRNA sono contenuti solo nei metazoi questo ci lascia pensare che i microRNA abbiano una funzione nel regolare la diversità cellulare con il ruolo con il loro ruolo epigenetico ok cosa succede se uno toglie tutti i microRNA questo si può fare un esperimento che è stato fatto nel 2003 da Gregory Hannon uno scienziato americano che ha isolato le proteine argonauta che ha contribuito molto alla caratterizzazione dell'interferenza del RNA nel 2003 il gruppo di Hannon ha semplicemente prodotto un topo knock out per Dicer che è l'enzima chiave senza l'enzima Dicer i microRNA non sono maturati e quello che succede è che il topo l'embreone è letale cioè muore subito in realtà se uno va a vedere cosa succede in questo embrione succedono due cose fondamentali qui a sinistra c'è l'embreone mutante che manca di tutti i microRNA qui a destra sia in B che in C che in A c'è l'embreone normale vedete nell'embreone normale in questo stadio molto molto precoce di sviluppo si esprime questo gene che è colorato da questa colorazione blu è l'abbreviazione T si chiama Brachyuri questo è il gene chiave del primissimo foglietto differenziato di un embrione cioè la prima struttura il primo tessuto differenziato si chiama endomesoderma e si forma grazie alla accensione di questo gene Brachyuri e questo gene non si accende se si tolgono i microRNA quindi apparentemente i microRNA sono necessari per il differenziamento cellulare però al tempo stesso vedete questo è un embrione normale che esprime OCT4 forse qualcuno di voi si ricorda questo è un gene è una stella famosa perché è il gene più importante delle cellule staminali embrionali della pluripotenza quello che si usa per riprogrammare le cellule della pelle a cellule staminali embrionali un embrione normale molto precoce ha ancora cellule staminali pluripotenti embrionali esprime OCT4 se uno blocca i microRNA si perde anche la pluripotenza quindi si perdono si perde la capacità differenziativa e la pluripotenza ora in effetti in effetti si sapeva già da qualche tempo che ci sono dei microRNA specifici che in embrioni molto precoci dello sviluppo hanno come ruolo quello di fare differenziare le cellule e sono questi in arancio microRNA 21 29 199 led 7 questa famiglia di microRNA che ha tantissimi componenti è una famiglia di microRNA chiave presenti e necessari in tutti i tipi di differenziamento cellulare al contempo si conoscono dei microRNA che sono dei veri e propri marcatori della pluripotenza questi in blu questi microRNA in blu vengono chiamati l'impronta molecolare cioè il fingerprint molecolare della pluripotenza cioè quando una cellula esprime questi microRNA è una cellula è una cellula pluripotente quindi e quindi per esempio ci sono stati gruppi come questo di Bellosh e questo è l'articolo originale sul Nature Bay Technology oggi il 2009 che semplicemente trasfettando questi microRNA e i microRNA della famiglia 290 e il 302 e il 367 sono riusciti a riprogrammare un fibroblasto una cellula della pelle a cellula staminale riprogrammata embrionale IPS induced pluripotent cells benissimo quindi questo è un ruolo fondamentale dei microRNA controllare transizioni cellulari di identità cellulari controllare addirittura in questo caso la riprogrammazione di una cellula somatica della pelle a cellula staminale embrionale questo lo sapevamo però non conoscevamo assolutamente perlomeno in dettaglio non sapevamo quali fossero i micro scusatemi gli RNA messaggeri bloccati bersagliati da questi microRNA della pluripotenza allora e questa è una cosa in attesa noi abbiamo fatto questo studio un paio di anni fa e cosa abbiamo visto? gli RNA gli RNA bersagliati da quei microRNA sono RNA che codificano guarda caso proprio per le proteine che rimodellano la cromatina quelle che abbiamo visto l'altra volta vi ricordate per esempio la denovo metiltransferasi quella che metile il DNA oppure questi rimodellatori sono tutte grosse famiglie che contengono più più gene più proteine questa è una grossa famiglia di rimodellatori istonici che utilizzano ATP per far scorrere il DNA sull'istone o per cambiare un istone di un certo tipo con un altro oppure questa famiglia molto importante di l'isina di metilasi però guardiamo soprattutto le denovo metiltransferasi cioè le DNA scusatemi le denovo DNA metilasi le denovo DNA metilasi è trascritta dentro alle cellule staminali embrionali e questo non dovrebbe accadere perché le cellule staminali embrionali di mestiere fanno hanno la cromatina demetilata quasi completamente con poche eccezioni il punto è che quindi una cellula staminali embrionale trascrive questi enzimi trascrive i geni codificanti per questi enzimi ma non li traduce quindi la pluripotenza è ancora una volta un caso in cui una cellula che può fare varie cose trascrive i geni per fare queste cose trascrive i geni che rimodelleranno la sua cromatina e permetteranno il differenziamento ma non li traduce perché? perché al tempo stesso trascrive dei microRNA che bloccano la traduzione di queste proteine che hanno quindi c'è una doppia barriera epigenetica e il differenziamento il primo differenziamento da cellula pluripotente a cellula differenziata è proprio la eliminazione di questa doppia barriera prima con l'eliminazione dei microRNA e poi dopo con la traduzione dei rimodellatori della cromatina quindi io avrei concluso più o meno quello di cui voglio convincervi è che negli ultimi due decenni il nostro modo di vedere il controllo dell'espressione genica è radicalmente cambiato cioè fra diciamo DNA e produzione di una proteina matura e funzionante non ci sono solo trascrizione e traduzione ma c'è una serie di processi molto complessi e ben controllati che possono bloccare il flusso di informazione a due livelli a livello cromatinico e a livello di traduzione e che verosimilmente lo sviluppo di questi due macchinari di regolazione è quello che ha permesso l'evoluzione degli organismi pluricellulari perché ha iniziato l'utilizzo dell'epigenetica per decidere quale gene deve essere espresso o no in che cellula e con questo io diciamo vi lascio poi ora se volete fare subito qualche domanda se no andiamo a prendere il caffè in modo molto silenzioso cioè passando dal corridore di sinistra come l'altra volta e poi dopo organizziamo le domande e facciamo questo gruppo di lavoro grazie Federico allora se ci sono domande chiarimenti specifici vi prego di farli adesso e successivamente ci sarà la sessione proprio dedicata domande più strutturate ma è chiaro che io sottolineo due aspetti di quello che ha detto Federico così tanto per la foto di Gordon questo l'hai detto dunque no questo chiamarli RNA non codificanti una cosa importante che ha detto Federico è che in realtà sono RNA che non codificano secondo il codice genetico cioè la corrispondenza tra triplette e aminoacidi ma sono RNA che codificano secondo un altro codice e questo è un punto che fa riflettere ovviamente quando si dice RNA non codificanti poi uno magari non ci riflette ma tutto questo meccanismo che viene fuori da questi studi che Federico ha descritto è un altro codice di regolazione sovrapposto a vari livelli a questo è uno spunto di riflessione molto e anche fa riflettere secondo me i ragazzi su cosa vuol dire un codice nella cellula cos'è un codice un codice non è una legge fisica un codice è in qualche modo una convenzione e così via e quindi questi sono secondo me spunti di riflessione anche didattici molto importanti il secondo aspetto su cui vorrei riprendere un punto che ha detto Federico è adesso alla fine questo meccanismo dei piccoli RNA che portano al fatto che la cellula trascrive gli RNA messaggeri ma non li traduce uno può pensare a che serve anche qui lui l'ha detto ma insomma forse magari ragioniamoci sopra qual è il a che serve uno si porta avanti con i compiti però poi dopo interrompe oppure perché non ecco questo è uno spunto di riflessione importante che ha anche degli aspetti di somiglianza con fenomeni che avvengono per esempio nel sistema nervoso in cui anche i microRNA regolano la traduzione in funzione dell'attività sinaptica rispetto alla trascrizione e così via su questi sono spunti su cui possiamo ragionare ma non volevo togliervi la quindi se ci sono domande brucianti se no ci vediamo dopo va bene allora ci vediamo a che ora io direi di vedersi alle 5 e un quarto se è possibile così abbiamo tre quarti d'ora per chi vuole restare fino in fondo di discussione 5 e un quarto qui non più tardi allora riprendiamo la sessione belli carichi e motivati e a voi il microfono adesso io sono qui per passarvi il microfono per fare domande o commenti chi rompe il ghiaccio eccola giù eccola ecco interessante il quadro che hai fatto è molto chiaro quindi grazie per questo questo quadro su questi DNA non codificanti ecco quando si parla di controllo dell'espressione genica l'altro grande filone che subito viene alla mente è la plasticità neuronale e mi dicevi che appunto anche te ti eri occupato di questo settore perché mentre durante lo sviluppo appunto abbiamo magari un pattern più definito e quindi forse non lo so se dico bene però più rigido nella plasticità neuronale abbiamo anche più libertà e anche una maggiore flessibilità forse e un dialogo con l'esterno e quindi un possibile controllo in risposta alle esigenze e alle richieste del mondo esterno allora ovviamente ci vorrebbero altre non una conferenza ma tante per rispondere però circoscrivo la domanda riallacciandomi a quanto diceva invece prima cioè a livello circoscriviamo solo alle sinapsi e quindi a livello della modulazione delle sinapsi che ruolo giocano i microRNA o altre cose a livello sinaptico e qual è il dialogo con l'esterno cioè come la richiesta esterna può in qualche modo modulare o modificare la risposta dei neuroni se si sa e cosa si sa penso che possiamo dare due risposte potrebbero essere coincidenti quella di Antonino sarà senz'altro migliore della mia perché lui si occupa di questo e mi occupo più di aspetti cellulari io la vedo in questo modo la plasticità neuronale io la definirei come uno stato cellulare di permissività a cambiamenti cioè due neuroni sono plastici quando possono cambiare i loro le loro le loro sinapsi quindi i loro possono cambiare l'efficacia di segnalazione fra fra una sinapsi che li che li mette in contatto quindi permessivo vuol dire capace di poi dopo c'è un secondo punto la messa in pratica di questo dello stabilizio della sinapsi o del suo potenziamento questo è un fenomeno che è locale che avviene all'interno della sinapsi cioè il fatto che un neurone sia plastico e possa modificare le sue sinapsi riguarda tutto il neurone e tutte le sue sinapsi però poi a un certo punto la plasticità la memoria sono fenomeni che avvengono a livello di un singolo contatto dei 10.000 che fa un neurone allora la plasticità può essere dovuta all'espressione di geni permissivi a che questo avvenga faccio un esempio geni che codificano per proteine importanti per costruire una sinapsi poi questi RNA messaggeri devono essere o le proteine devono essere distribuite in tutti i processi in tutti i neuriti in tutti i dendriti di questo neurone andare in periferia questa è la permissività la plasticità e con questo penso di avere diciamo parzialmente risposto chi è dall'esterno che controlla questa plasticità ci sono moltissimi tipi di segnale per esempio le neurotrofine hanno un ruolo chiave nel controllare la plasticità quindi verosimilmente le neurotrofine legandosi ai loro recettori di membrana riescono a regolare l'espressione di geni chiave per mettere in atto questa permissività questa plasticità quindi le neurotrofine verosimilmente stimolano la trascrizione di geni che producono proteine importanti per costruire fisicamente la sinapsi oppure geni che codificano per recettori di neurotrasmettitori che mettono in atto la sinapsi poi la ad esempio memoria io la vedo come un fenomeno che avviene non a livello di tutto un neurone perché questo è impossibile avviene a livello di singole sinapsi di una delle diecimila sinapsi che questo neurone fa e dipende dal tipo di attività elettrica che questo neurone scambia con il suo partner allora quando questo tipo di attività è in fase è buona diciamo e quindi quella sinapsi deve fortificarsi deve stabilizzarsi devono avvenire cambiamenti strutturali devono essere in quel punto del versante presinaptico e postsinaptico devono per esempio essere tradotte delle proteine che cambiano la struttura della sinapsi intanto deve essere possibile questo cioè il neurone molto lontano da questo punto di cui stiamo parlando deve aver prodotto gli RNA messaggeri che codificano per queste proteine per questi enzimi primo secondo poi gli RNA messaggeri o si traducono localmente vicino nel citoplasma e questo non è quello che succede come vi ho accennato è che nel primo non tradotto di questi RNA messaggeri ci sono delle sequenze che permettono che l'RNA messaggero venga trasportato e quindi quello che succede è che tutte le 10.000 sinapsi di un certo neurone hanno RNA messaggeri lì pronti per essere tradotti quello che Antonino e molti altri gruppi nel mondo stanno studiando è chi è che controlla la traduzione locale cioè periferica perché la memoria lo stabilizzarsi di una sinapsi dipende dal fatto che una dozzina o poco più di diversi tipi di RNA venga tradotto o no in quella sinapsi quando c'è un'attività elettrica ottimale e gli RNA non codificanti potrebbero avere un ruolo e hanno un ruolo chiave nel controllo di questo fenomeno quindi la situazione è che in tutte le 10.000 sinapsi di un certo neurone ci sono già gli RNA pronti per essere tradotti la cui traduzione fa fortificare quella sinapsi ed è una specie di fotografia della memoria e come l'attività elettrica di questa sinapsi che è quella che comanda riesca a modificare la traduzione locale di questi RNA messaggeri riesca a influire per esempio sui microRNA che stanno lì e che bloccano la traduzione ancora non lo sappiamo questo è il mio modo di vedere il problema però probabilmente io non vorrei aver con il mio commento innescato una digressione sul però io ho ripreso quello che Federico ha detto con queste il fenomeno che lui ha studiato e che ha descritto è che questo programma di trascrizione fornisce durante le fasi precoci dello sviluppo embrionale ma io ho detto anche in un neurone attivato esattamente concettualmente in modo identico con tutto un corredo di RNA che vengono fatti trascritti ma non tradotti dopodiché vengono tradotti in base alle esigenze o per esempio durante lo sviluppo embrionale nei modi che Federico ha detto vi dirà oppure nella plasticità sinaptica quindi questo duplice meccanismo di controllo in cui al percorso classico trascrizione del DNA e traduzione questo non oggi il ruolo degli RNA codificanti come ha detto oggi Federico c'è una grande complessità aggiunta in questo percorso che sembra lineare ovvero sia di controllare a diversi stadi questo processo quindi questo sono analogie concettuali che utilizzano in comune questi meccanismi dei piccoli RNA tutto chiaro allora tutto non chiaro allora cos'è che non è chiaro cos'è che non è chiaro chi è che vuol dire cos'è che non è chiaro chi controlla chi controlla questo allora chi controlla l'espressione la presenza dei microRNA è la domanda chi controlla i controllori esattamente esattamente allora vi ho detto di questa ricerca che abbiamo fatto recentemente e siamo giunti alla conclusione che le cellule pluripotenti restano tali finché hanno questi microRNA della pluripotenza quando questi microRNA scompaiono le cellule si differenziano quello che succede nell'embrione precoce quando si passa da massa cellulare interna delle cellule è epiblasto è il primo differenziamento e l'abbiamo dimostrato scompaiono queste poche decine di microRNA le proteine di rimodellamento vengono tradotte e si differenzia e c'è il primo differenza chi è che decide che questi microRNA scompaiono non lo sappiamo chi produce questi microRNA non lo sappiamo però rovesciamo il problema noi sappiamo che parliamo ora delle cellule staminali embrionali che sono un caso strano però è l'inizio è l'inizio di tutto noi sappiamo che quella cromatina la cromatina di quelle cellule è aperta non c'è metilazione e si trascrive un po' di tutto è una cosa stranissima se voi andate a vedere una cellula staminali embrionale per ogni cellula trovate 20 in media molecole di RNA di di troppo miosina se non sbaglio che è una proteina contrattile del muscolo che ci sta a fare lì di sicuro non è tradotta trovate e sono tante 20 molecole per cellula trovate trascrizione di geni del differenziamento dei neuroni della pelle perché e perché queste cellule tendono a trascrivere un po' di tutto però io vi ho anche detto una cosa che forse ci sfugge il 90% dei microRNA sono codificati all'interno di geni sono dentro gli introni quindi all'inizio c'è una globale trascrizione è una globale inibizione della traduzione tutto è trascritto ma niente tradotto ci sono le eccezioni cioè quelle poche decine di proteine fondamentali per la per la pluripotenza perché le cellule si hanno pluripotenze si devono dividere devono fare altre cose hanno un metabolismo acceleratissimo usano glicolisi anaerobica hanno una serie di proteine che solo loro hanno quei geni sono più trascritti e più tradotti però tutto il resto è molto trascritto abbastanza diciamo ma non tradotto quella è la partenza quindi io rispondo a questa domanda i microRNA sono già prodotti allora chi li silenzia non lo so vabbè ci sono possibili spiegazioni il primo autore di questo articolo ha detto secondo me non può essere un fenomeno globale perché alcuni colleghi ci dicono ma dovete studiare tutti i geni dentro a cui ci sono questi sono una quarantina di microRNA i nostri i nostri li avevano già descritti la famosa signature la firma dei microRNA sono una quarantina e mi hanno detto voi dovete studiare i geni tutti i geni in cui questi 40 sono contenuti in realtà sono 35 5 stanno per conto loro e dovete capire chi è quali sono i fattori di trascrizione che regolano le espressioni di questi geni in cui i microRNA sono contenuti il primo autore di questo articolo che poi è quello che più capisce diciamo ha sempre detto che secondo lui il fatto che questi 40 microRNA vanno giù scompaiono non è perché non vengono trascritti ma perché forse sono accomunati da una caratteristica per un puro caso Dicer per tagliare questi microRNA ha bisogno di un cofattore di una proteina quindi basterebbe che un solo gene fosse regolato e però questi esperimenti non li abbiamo fatti quindi non so rispondervi se questo è il caso oppure no può darsi che che una sola proteina regoli la maturazione di tutti e 40 questi microRNA impedendo impedendo la maturazione cioè resterebbero solo i precursori cosa che noi abbiamo visto essere vera però è tutto molto complicato diciamo così cioè capire chi è che inizia e che concetto molto importante che è stato detto nella lezione di Federico è questo concetto della rete e di come gli RNA codificanti connettono questa rete in questi circuiti concordanti o discordanti questo fa vedere la cellula in un modo molto molto differente da come ce la immaginiamo perché un conto si è sempre detto si dice da tanto che c'è una rete di interazioni proteiche l'interattoma e questo è già un concetto recente ma abbastanza consolidato oramai la rete delle interazioni ma la rete di cui parlava Federico prima è una rete di regolazione che è un che è un qualcosa di aggiuntivo rispetto alla rete delle interazioni non so se vuoi commentare su questo Federico perché su questo secondo me è anche un punto di nuovo io penso che a livello didattico per esempio i ragazzi sono abituati a pensare oggi in termini di reti quindi questo parlargli in termini di rete di rete intesa come come metafora delle delle interazioni tra gli elementi del sistema che esattamente le reti che loro usano dico loro perché possiamo tornare un attimo alle diapositive non so se Federico vuoi commentare su questo ok cioè volevo semplicemente ripetere il punto che forse io capisco che sia tutto molto complicato non guardiamo nella figura che sono rimasti questi non ci interessano guardiamo questi circuiti come li hai chiamati meglio che coerenti e incoerenti non mi ricordavo questo che sono rinco no non mi ricordo quello che ah ok vedete in tutti questi tre casi c'è un fattore di trascrizione che o che controlla un genere bersaglio ok ma in tutti questi casi sia che il fattore di trascrizione inibisca perché ci sono dei fattori di trascrizione che inibiscono la trascrizione vi ricordate si chiamano silencers silenziatore ok le regioni a cui si lega sia che il fattore di trascrizione inibisca sia che il fattore di trascrizione induca ecco di sicuro c'è sempre un microRNA che che è trascritto da questo fattore di trascrizione perché perché sta dentro un gene che anche lui è regolato succede sempre allora ci sono casi in cui i microRNA aiutano sempre il lavoro del fattore di trascrizione potenziano vedete in questo caso il microRNA inibisce e anche il fattore di trascrizione inibisce in questo caso il fattore di trascrizione inibisce la doppia inibizione e quindi un'induzione che è come questa qui e così via poi ci sono circuiti che sono l'opposto sono incoerenti tutti questi circuiti esistono e coesistono incoerenti non vuol dire sbagliato incoerenti per uno scopo qual è l'esito incoerenti nel senso che remano contro il microRNA il microRNA rema contro al fattore di trascrizione è chiaro che la cosa fondamentale cioè i fattori di trascrizione continuano a rimanere le nostre stelle rifulgenti che sono quelli che decidono se una transaminasi è prodotta o no nell'epatocita se il recettore per il glutammato è prodotto o no da un neurone cioè il microRNA da solo fa poco però appunto ci sono microRNA che remano contro o RNA che tendono a far rimanere lo status quo questi due tipi coesistono nell'interattoma ok qui ora non si vedono più ma ci sono queste relazioni sono di ciascuno dei micro i micro sono questi rossi ciascuno di questi micro nel confronto di un fattore di trascrizione può essere coerente o incoerente allora quello che io penso è che è verosimile è che quando una cellula della nostra pelle è stabile non tumorale e resta differenziata come pelle la maggior parte dei microRNA funzionano in modo coerente poi a un certo punto viene uno stimolo cioè un raggio ultravioletto che mi attiva il fattore di crescita IGF senza che però ce ne sia bisogno e la mia cellula attiva dei microRNA che funzionano in modo non coerente cercano di spostare l'equilibrio cercano di cambiare l'espressione di certi geni quelli del ciclo cellulare cercano di far dividere il keratinocita che non dovrebbe dividersi e mi viene un keratoma eccetera e questo è quello che io mi immagino cioè mi immagino che i passaggi di stato di una cellula siano molto controllati dall'attività di microRNA in circuiti non coerenti ci sono tanti concetti in questo che ha detto per esempio il concetto che lo stato quello che distingue due cellule in stati differenziativi è ovviamente il corredo delle proteine che queste due cellule esprimono cioè trascrivono e traducono cioè delle loro proteine però questo stato a sua volta è reso stabile o instabile o i cambiamenti in questo stato sono favoriti o sfavoriti da queste regolazioni a carico degli RNA posso avere ancora una volta la diapositiva la diapositiva guardate io stavo cercando di mettervi di mezzo di imbrogliarvi tutto questo può succedere benissimo senza il microRNA ho mentito qui possiamo mettere invece che un micro un fattore un secondo fattore di trascrizione perché no chiedi a loro qual è la differenza giusto perché se questo fosse un altro fattore di trascrizione che funziona a livello scusa Federico no 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 che funziona a livello devo fare da moderatore ti chiedo per piacere di continuare veramente veramente il fattore di trascrizione funziona passando dal DNA all'RNA e per avere un effetto poi alla proteina quindi implica due passaggi è un fenomeno più lento il microRNA ha un'azione immediata è un freno il microRNA è un freno messo sull'RNA la macchina in folle ha tanti questa è una citazione che usa Federico nelle sue il motore va a 6.000 giri ma la macchina non va ma è pronto come prima quando il microRNA sblocca cioè toglie il blocco si non c'è bisogno di passare attraverso trascrizione e traduzione della proteina polisomi in termini di tempo sono 3-4 ore contro un minuto questo è esattamente quando c'è bisogno di una risposta globale e rapida ecco dove questo tipo di molecole sono molto molto ma ma perché la natura deve avere scocitato un sistema che prima si trascrivono tutti gli RNA che costano un sacco di ATP prova a far trascrivere i fattori di trascrizione che devono controllare si fa con un piccolo RNA quindi anche in termini energetici questo vale quando c'è da fare una transizione di stato con le stesse leggi dei circuiti coerenti e incoerenti però invece di usare un fattore di trascrizione forse la natura ha deciso di usare un piccolo RNA perché non c'è bisogno di trascrivere e tradurre una proteina enorme veniva in mente che quindi questi micro RNA penso che abbiano anche delle grosse applicazioni in campo medico volevo sapere a che punto siamo di questa sì allora è verissimo cioè giunti alla conclusione che uno può cambiare lo stato lo stato differenziativo di una cellula agendo su un fattore di trascrizione o su un micro RNA e questo è vero che noi possiamo produrre per esempio possiamo riprogrammare la pelle a cellule a cellule pluripotenti come vi ho detto usando i micro RNA la famiglia dei micro RNA 290 295 ok conviene sì può convenire per due motivi per motivi banali di costo e di facilità cioè trasfettare il che vuol dire introdurre con metodi fisici o chimici all'interno di cellule il DNA che codifica per una proteina per un fattore di trascrizione è molto più difficile che trasfettare un piccolo RNA di 30 nucleotidi addirittura ci sono oramai dei trial clinici in cui i micro RNA vengono quando è possibile iniettati sistemicamente e quindi riescono a trasfettare cellule endoteliali oppure entrare negli organi dei tessuti senza bisogno dell'agente trasfettante che in laboratorio è una scarica elettrica oppure in laboratorio e in vivo sono micelle di liposomi ok ecco non si può fare un esperimento in vivo invece con i micro RNA si può fare basta legare questi ventameri di RNA con un po' di colesterolo e questi applicati localmente o sistemicamente trasfettano entrano dentro tutte le cellule però questo non è l'unico vantaggio un altro vantaggio è il seguente in alcuni casi fortunati si è visto che una certa funzione è legata all'espressione di un gran numero di fattori di trascrizione 10 15 20 e invece un minor numero di micro RNA proprio perché i micro RNA hanno più bersagli nel genoma di un fattore di trascrizione quindi delle volte esiste una case fortunata in cui se uno vuole bloccare la proliferazione per esempio tumorale usa uno un solo micro RNA che ha 200 300 bersagli quindi la risposta è sì per due motivi però dal punto di vista della biologia quello che uno va a fare è modificare una rete di espressione di fattori di trascrizione perché sono poi quelli che in ultimo fanno produrre un fattore di crescita una ciclina che fa divire delle cellule una proteina che controlla le metastasi poi sono le proteine che comandano che rendono le cellule diverse e i fattori di trascrizione sono quelli che trascrivono il messaggero se posso commentare su questa domanda e sulla tua risposta sull'uso dei micro RNA come agenti terapeutici potenziali ma ovvero sia come agenti biologicamente rilevanti c'è una distinzione molto concettuale molto grande tra come funziona una molecola chimica che agisce su una proteina la quale agisce su quella proteina tutti i farmaci oppure tutte le sostanze che noi usiamo di natura chimica con cui noi facciamo gli esperimenti ma anche i farmaci sono farmaci sono molecole che agiscono su un certo bersaglio i micro RNA per tutto quello che ha detto vi ha detto oggi Federico sono delle molecole che agiscono su una rete hanno molti bersagli e questa è una logica completamente differente è chiaro che questo li rende molto molto complicati dal punto di vista della sicurezza di un farmaco è ovvio e quindi non credete a chi vi dice che questi oggi sono delle molecole che diventano un farmaco domani però capite che sono una maniglia per poter andare a regolare la rete di cui ha parlato questo è che è concettualmente molto differente che un farmaco mirato una proteina che può essere estremamente efficace se quella proteina è quella proteina coinvolta in quella specifica funzione che io voglio inibir o attivare ma laddove sia importante regolare un fenomeno globale allora è chiaro che una molecola che ha molti bersagli ha i suoi vantaggi e le sue difficoltà grazie approfitto per chiedere quello che parlavo prima invece andando all'indietro quindi pensando al mondo procariota ci sono strutture simili già allo stato a livello di batteri e quali allora noi abbiamo forse riferivi appunto a questa cosa che abbiamo accennato durante la pausa del caffè cioè il meccanismo di difesa che si basa sulla nucleasi Cas9 e CRISPR direi che è questo nuovo questa nuova stella del sistema diciamo biologico cioè è un sistema che è stato scoperto recentemente e che ha avuto un'applicazione così feconda e immediata che ora è quello di cui tutti parlano il sistema che permette di tagliare a piacimento qualsiasi sequenza vogliamo del DNA di una cellula viva dentro la cromatina senza usare enzimi di restrizione senza usare molecole perché questo già si faceva costruendo appositi endonucleasi che riuscivano in qualche modo più o meno efficientemente a tagliare a livello di una sequenza voluta per esempio di 20 basi 30 basi dentro il genoma abbiamo scoperto che ci sono dei sistemi che sono stati che vengono usati dai prokaryoti come sistema una sorta di sistema immunitario cioè per la prevenzione di infezioni virali e quant'altro e questo sistema funziona con la stessa logica di alcuni RNA a lungo filamento non codificanti di cui ho parlato cioè esistono nelle cellule prokaryotiche esiste un lungo RNA che è capace di fare una struttura secondaria ma al suo estremo anche un'estremità libera che è capace di riconoscere per appaiamento sequenze specifiche dentro il genoma nella cromatina attraverso un appaiamento di una trentina di paia di basi questo sistema nepro e cosa fa il long non coding CRISPR si chiama questo long non coding RNA va nel genoma si lega nel punto di omologia perfetta e si porta dietro una endonucleasi una endonucleasi che si chiama Cas9 questa endonucleasi taglia e taglia solo in presenza di quella sequenza di 30 basi che vuol dire una specificità intorno a 4 alla trentesima cioè una volta un paio di volte tre volte in tutto il genoma quindi in questo modo negli ultimi 3-4 anni è stato possibile produrre per esempio organismi transgenici topi senza bisogno di fare la ricombinazione omologa topi in cui io facevo il taglio a livello del gene voluto il taglio in questo caso viene riparato però crea un fuori frame di lettura e quindi la proteina che viene prodotta a livello del gene tagliato non è funzionante ora questo sistema CRISPR-Cas9 che è utilizzato dai prokaryoti come difesa nei confronti di DNA esogeno è un sistema che che utilizza processi simili a quelli dei sirna oppure a quelli dei pivi cioè sembra quasi che la natura abbia utilizzato dei moduli dei molecular dei moduli provandoli e mettendoli assieme quindi nel sistema CRISPR-Cas9 c'è il concetto di scaffold RNA che riconosce una sequenza omologa al DNA come nell'RNA Xist dell'etero-cromatinizzazione del cromosoma X però in quel caso Xist silenzia uno dei due cromosomi X semplicemente facendolo etero-cromatinizzare nel caso delle CRISPR questo complesso questa ribonucloproteina taglia il DNA d'altra parte i sirna senza usare un complesso proteico ad hoc ma usando il complesso RISC quindi argonauta fanno la stessa cosa ma a livello degli RNA messaggeri non a livello del DNA quindi questo per darvi un quadro è diciamo la logica di Giacobbe Monod cioè di creare tinkering bricolage bricolage però io aggiungo a questo da tutto questo emerge che c'è una ricchezza di fenomeni a cui questi non-coding RNA si prestano c'è una ragione profonda che allora su questo vorrei sottolineare così mi veni in mente mentre tu parlavi quello che tutti questi molecole hanno in comune che si basano su un meccanismo evolutivo che è il riconoscimento per complementarità di basi primo meccanismo e secondo sul fatto che le molecole di RNA possono assumere una configurazione tridimensionale nello spazio molto strutturata scusate il bisticcio per cui possono facilmente poi accomodare interazioni con proteine cioè la molecola di RNA è tra virgolette il meglio dei due mondi ovvero sia è un polimero informazionale che può funzionare sulla base di regole di appaiamento Watson e Crick molto precise però ha anche una versatilità strutturale estremamente più grande del DNA il DNA come ha detto Federico prima fa la sua struttura ce ne sono alcune essenzialmente fa quella struttura lì ed ha quella stabilità strutturale che è fondamentale per il suo ruolo evolutivo poi ci sono le proteine e l'RNA non è solo il tramite se no forse l'evoluzione avrebbe pensato un altro meccanismo se era solo di fare il tramite tra il DNA e le proteine e quindi oltre alla capacità di codificare per le proteine questa ricchezza che sta emergendo degli RNA non codificanti o diversamente codificanti diciamo diversamente codificanti vogliamo vogliamo coniare questo diversamente codificanti è dovuta a questo fatto questo è un commento che volevo grazie grazie veramente perché l'avrei voluto fare volentieri si sanno già ora possibile che non ce ne siano perché è troppo diciamo troppo deleterio ma ci sono sono conosciute delle patologie basate e causate da RNA non codificanti specialmente quelli microRNA o è troppo è incompatibile con la vita guarda quando i microRNA io non sono bravo ce ne sono tantissime non non sono bravo a risponderti però ti do una risposta mia quando sono usciti fuori i micro a un certo punto sono hanno cominciato a sviluppare metodi per fare l'analisi globale del microRNA così come ora si fa l'analisi globale dell'RNA cioè si fa la sequenza con i metodi di sequenza si può dedurre tutto il trascrittoma tutti i messaggeri e ai tempi era cominciava ad essere possibile valutare la presenza di tutti i possibili mille microRNA umani per esempio in un certo tipo di tumore solido anziché in un altro tipo di tumore e è emerso subito il fatto che i microRNA erano implicati erano in forme tumorali diverse addirittura erano dei marcatori più attendibili dei geni normali e poi è venuto fuori che questi microRNA in realtà erano non solo marcatori ma funzionalmente funzionalmente correlati a tumori solidi quindi di sicuro il campo della cancer biology è in questo momento dominato dallo studio dei microRNA faccio un esempio il micro del cluster 1792 che contiene 4 è un cluster che codifica per 4 microRNA diversi e quello è famosissimo uno dei più famosi perché questi 4 micro controllano i geni delle cicline quindi quelli che controllano la proliferazione cellulare quando c'è una mutazione in qualcuno di questi microRNA questo è uno dei può essere uno dei famosi 3 hits che al giorno d'oggi sono quelli riconosciuti sufficienti per iniziare un processo tumorale cioè dovrebbe essere 3 mutazioni una di queste può essere una mutazione a livello del cluster 1792 oppure microRNA che controllano la poptosi come se non sbaglio è il MIR21 quindi c'è una pletora di microRNA collegati funzionalmente a malattie non solo a tumori ma di tutti i tipi sì per lo stesso motivo tutti i microRNA che controllano l'espressione dei geni correlati con le malattie neurodegenerative perché è una rete inestricabile perché vi ho detto è difficile trovare un esso di causalità ancora sì questo anche anche in cancer biology o nelle malattie metaboliche però è la stessa difficoltà che si trova che c'è nel trovare un esso di causalità fra malattia e gene pari pari perché ancora oggi noi studiando i geni codificanti per proteine e fattori di trascrizione facciamo studi di correlazione nelle corti dei pazienti cioè vediamo che c'è una mutazione presente ripetuta in una certa familiarità però questo non vuol dire che quella mutazione sia la causa della malattia e questo è vero sia per un gene sia per un microRNA l'attività dei microRNA va a confermare la precocità dell'azione dell'RNA rispetto il DNA sembrerebbe di sì quindi se sperimentalmente noi abbiamo visto che quando interferiamo con l'RNA l'effetto si vede prima che quando interferiamo con il DNA questo sì questo sì nei miei esperimenti quando io trasfetto un fattore di trascrizione vedo l'effetto come faccio dell'effetto so che questo fattore di trascrizione fa trascrivere il gene per la rhodopsina la rhodopsina dei fotorecettori io trasfetto il fattore di trascrizione che si chiama CRX omeobox dei coni e dei bastonciccon rodo omeobox lo trasfetto e poi nelle cedule con l'anticorpo contro la rhodopsina guardo quanto ci mette la rhodopsina proteina a essere tradotta abbastanza per vederla e passano 24 36 48 ore se io invece uso un piccolo RNA che blocca il microRNA che blocca il messaggero della rhodopsina quindi tolgo via il microRNA nel giro di 4 6 ore vedo che c'è l'aumento di proteina questo è diciamo la riprova sperimentale che se l'RNA già esiste io tolgo il freno l'inibizione del microRNA la sintesi proteica è molto più accelerata che se non stimolando la trascrizione di quel messaggero evolutivo a livello evolutivo non c'è direi ancora non c'è un'evidenza non c'è un'evidenza che questo avvenga cioè che i microRNA e i piccoli RNA e gli RNA non codificanti in genere si siano evoluti perché sono un meccanismo favorito e più veloce direi va bene avete spunti di riflessione se ci sono domande che vi vengono successivamente potete scrivere a professor Cremisi oppure la prossima volta nel prossimo incontro il prossimo incontro sarà il prossimo mese credo sia l'otto maggio sì alle tre e mezzo come sempre bioinformatica l'aggancio è molto ovvio perché avete visto lo studio delle studio delle reti e le reti si studiano con metodi anche anche con metodi bioinformatici oggi la bioinformatica sta diventando sempre di più un un approccio essenziale e di di complemento agli approcci sperimentali quindi bioinformatica e approcci sperimentali vanno oggi molto molto insieme grazie mille e alla prossima vi diamo fra un mese grazie grazie a tutti mi dispiace che con la questione sulla plasticità sinattica il mio commento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti